La voce bianca di Minerva inizierà senza presentazione, quindi vi chiedo di fare un pochino di silenzio e di accomodarvi nei banchi e cominciamo subito con il canto. Grazie. 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 Neonanti nell'ottobre 2012 per un'intuizione del parco Don Bruno per l'animazione della Santa Messa delle 9.30 con lo scopo di cantare e pregare perché chi canta prega due volte. Ha iniziato con E' la vostra famiglia che celebra la vita all'interno della famiglia cercando di riscoprirla agli occhi del creato e nelle mani di Dio. Proseguono con voglio che esalda la gioia di essere felici nel Signore. Dirige Claudia Verzobio. Grazie. 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 felicità. Voglio, 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 voglio gridare, voglio gridare, da me voglio, da me gioia, da me felicità. Grazie al Signore per il mio figlio che mi hai dato, oh, 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 oh. Grazie al Signore per il sorriso e la lucidà, oh, 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 oh. Grazie al Signore per il sorriso e la lucidà, oh, 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 oh. Con semplicità. Voglio, 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 voglio gridare, voglio gridare, da me gioia, da me voglio, da me voglio, La mia gioia, la mia felicità, voglio, voglio, voglio vi dare, voglio vi dare, la mia gioia, la mia gioia, la mia felicità. La mia gioia, la mia felicità. La mia gioia, la mia felicità, voglio, voglio, voglio vi dare, voglio vi dare, la mia gioia, la mia felicità. La mia gioia, la mia felicità.